Allora, come ci ha ricordato Don Giuseppe all'inizio, siamo qui per celebrare il decimo anniversario di apertura dell'oratorio. Pensiamo quante persone sono transitate per qui in questi dieci anni, quanti ragazzi, quanti giovani, famiglie, adulti, catechisti, animatori. Ecco è bello pensare a dieci anni dalla inaugurazione a tutto questo mondo di persone che hanno costituito l'oratorio, l'oratorio vivo. Li vogliamo affidare tutti al Signore, quelli che sono vivi, quelli che già sono passati all'abbraccio definitivo con Dio. Li vogliamo ricordare proprio perché da questo primo decennio di vita di cui sono stati testimoni si continui lungo la storia per tanti altri decenni con tanti altri testimoni. Bene, cosa dire dell'oratorio come istituzione, come fatto di una parrocchia, di una comunità cristiana? Beh, diciamo anzitutto che è un ambiente voluto, un insieme di energie disposte, una quantità di energie proposte per accompagnare la crescita dei ragazzi e dei giovani. Bene, che cosa c'è, a mio parere, di importante oggi in questo percorso, in questo tragitto di crescita che vuole accompagnare all'età adulta, all'età adulta come cristiani e come cristiani si onorano di essere discepoli di Gesù. Io credo che una prima e fondamentale dimensione, che forse a volte oggi passa un po' in sottordine, un po' in penombra, la prima fondamentale dimensione del nostro crescere verso l'età adulta è di riconoscere che noi non siamo gli unici costruttori della nostra vita, gli unici costruttori della nostra storia, del nostro destino, ma che questa nostra storia è una storia già contrassegnata fin dall'inizio, dalla parola e dall'opera del Signore Gesù. potremmo dire, forse usando una parola che dobbiamo cogliere in tutto il suo significato autentico, il cammino verso l'età adulta è quello che aiuta i ragazzi e i giovani a scoprire la propria vita come vocazione, cioè come una vita che si svolge in un costante dialogo con Dio. E dentro questo dialogo il primo a parlare è Lui, il Signore, non siamo noi. A noi tocca innanzitutto la disponibilità ad essere persone di ascolto. Certamente nell'ambito della vita oratoriana la parola di Dio, il Vangelo, la Sacra Scrittura ha una prevalenza fondamentale. Perché? Perché è il tramite della parola di Dio, è il canale privilegiato attraverso il quale Dio ci parla e noi ci mettiamo in ascolto. Noi ci mettiamo in ascolto. Perché dire vocazione vuol dire ricordare che qualcuno si è fatto incontro a noi, ci ha proposto un percorso di vita nel quale Egli, Lui, Gesù ci precede e di fronte al quale noi abbiamo la libertà di scelta. Scegliere se seguire questo percorso andando dietro a Lui o scegliere invece di seguire altri percorsi, suggeriti dai nostri desideri, dalla nostra volontà di autoaffermazione oppure dalle mode, dai messaggi che ci vengono dal mondo. Scoprire la nostra vita come vocazione. Perché è da lì che nasce il gusto, la bellezza e la forza della nostra responsabilità. Responsabilità vuol dire che noi diamo una risposta a colui che ci ha rivolto la parola. E la nostra risposta deve essere ovviamente una risposta che nasce dopo aver ascoltato. Allora se c'è un richiamo che a me piace deporre nel vostro cuore in questo decimo anniversario di inaugurazione dell'oratorio è che qui la parola di Dio sia di casa, sia di casa. Sia di casa nell'ascolto della Bibbia, nella lettura della Bibbia, sia di casa nei percorsi catechistici, sia di casa come ispiratrice del nostro modo di relazionarsi con gli altri, sia di casa nella forza interpretativa dei vari avvenimenti che contrassegnano la nostra vita, belli o meno belli che siano. La vita come vocazione ci apre il cuore ad un permanente incontro con Dio. Nella prima lettura abbiamo ascoltato che Dio mette dentro di noi un cuore nuovo. Io vi darò un cuore nuovo. Non siete voi a crearvelo nuovo, io ve lo darò. E qual è il modo con cui Dio dà a noi un cuore nuovo? E quello di rivolgere a noi la sua parola che ci aiuta a trovare gli orientamenti della mente e del cuore nella nostra vita. E in che modo Dio rende nuovo il nostro cuore? Non solo perché attraverso la sua parola ci dà le indicazioni, gli orientamenti giusti, ma attraverso la grazia dei sacramenti lo cambia radicalmente, radicalmente. E qualora, a dieci anni dall'inaugurazione, a me piacerebbe che il messaggio che raccogliamo sia quello di diventare ascoltatori attenti, intelligenti, curiosi della parola di Dio. Nella parola di Dio che ci chiama, ci chiama, si rivolge a me. Ed è a partire da lì che io costruisco, insieme con il Signore, la mia storia, le mie scelte, quelle che segnano la mia vita. Sia poi la scelta del matrimonio, sia quella del sacerdozio, sia quella della vita consacrata. Sono modalità con cui noi costruiamo la nostra vita accondiscendendo a ciò che il Signore ci suggerisce, a ciò che il Signore ci dice parlandoci nel cuore. Quando noi non pensiamo più alla nostra vita come a vocazione, quindi come a una vita da vivere in costante rapporto con chi ci parla, con Dio, allora noi facilmente cadiamo nella tentazione di pensarci a autonomi costruttori di noi stessi. Ma dove troveremo la forza, la lucidità per discernere ciò che dentro di noi ci orienta verso il bene e ciò che dentro di noi costituisce una spinta dal male? Ecco perché nell'edificare la nostra vita ciascuno di noi ha bisogno di questo riferimento che ci illumina, ci guida e ci conforta. Ed è il riferimento di Dio che ci parla. E' il riferimento di Dio che ci ha parlato che noi impareremo come prima restituzione della nostra risposta al Signore che ci ha parlato quello di pensare la nostra vita in termini di amore che serve gratuitamente. Potremmo dire forse che il segno, che in qualche maniera ci assicura che noi facciamo della nostra vita una risposta a Dio, il segno visibile a noi, visibile agli altri che ci guardano, il segno è proprio questo. Nella tua vita, tu cosa vuoi fare? Un servizio o un dominio? Un'autogratificazione oppure una donazione? Se vuoi essere discepolo del Signore Gesù e l'oratorio è fatto per accompagnare coloro che vogliono essere discepoli del Signore bene, se tu vuoi essere discepolo è da Lui che impari che il senso della tua vita è servire con amore. Diceva Gesù un giorno ai Suoi ascoltatori Io sono venuto per servire e per dare la mia vita in riscatto di molti. E' vero, potremmo anche continuare a cogliere tanti altri aspetti di quel cammino che porta i ragazzi, gli adolescenti e i giovani verso l'età adulta ma credo che qui, nel pensare la nostra esistenza come vocazione e quindi come risposta alla chiamata di Dio nel pensare la nostra vita come una risposta che si concretizza nel servire per amore qui troviamo la radice e il cuore di tutta l'esistenza cristiana. Nel messaggio per gli oratori quest'anno l'immagine dominante è quella del pane buono da mangiare ed è appunto il pane buono da mangiare che è l'Eucaristia quello che si rinnova costantemente sull'altare che ci insegna che se anche noi a nostra volta vogliamo essere un pane buono non abbiamo altro che da seguire quella strada la strada di Gesù che in obbedienza al Padre, rispondendo al Padre dà alla sua vita questa tonalità di servire con amore per la salvezza di tutti per il bene di tutti allora è bello che abbiate voluto connotare questo decennio e questa giornata di inizio della festa dell'oratorio con la celebrazione dell'Eucaristia che prosegue nell'adorazione eucaristica a voi ragazzi poi evidentemente non solo a voi anche a voi adulti io vorrei dire trovate il tempo di rapportarvi con l'Eucaristia non solo alla domenica ci vuol così poco transitando davanti alla chiesa fermarsi cinque minuti per adorare il Signore Gesù ma anche per dirgli voglio mantenermi costantemente ogni giorno in ascolto di quello che tu mi dici allora al Signore chiediamo che questa sua presenza questa sua voce che si rivolge a ciascuno di noi questo suo esempio che ci fa scoprire il senso della nostra vita nel servire con amore diventi anche il filo che conduce il percorso educativo dell'oratorio e che finisce per rendere ciascuno di noi un pane buono di cui tutti possono cibarsi come è pane buono quello del Signore Gesù nell'Eucaristia che tutti invita a cibarsi di Lui e della Sua parola a cibarsi di Lui a cibarsi di Lui e della Sua parola a cibarsi di Lui a cibarsi di Lui Grazie a tutti.